Musica Sarà un fiume di idee, così come è stata intitolata la nuova programmazione di intervento fino al 2020 del Gala Adige, gruppo azione locale che comprende 17 comuni del Medio e dell'Alto Polesine. Con il piano di sviluppo rurale del 2007-2013, il Gala Polesine Adige ha finanziato 12 beneficiari per un totale di 10,6 milioni di euro. Per il piano 2014-2020, il presidente Alberto Faccioli, che ha spiegato cosa cambierà, spera di restare sugli stessi livelli. Il programma che abbiamo presentato questa mattina è un fiume di idee e di voler coinvolgere tutto il territorio del Gala Adige nel poter proporre idee per poter soffrire dei fondi messi a disposizione proprio per le imprese. Gli obiettivi che si propone il Gala e le opportunità a favore delle imprese sono state descritte dalla nuova vicepresidente del Gala Adige, Elena Grandi, che è anche presidente della Confcommercio di Rovigo. La richiesta che viene fatta oggi con un fiume di idee è proprio di divulgare al massimo nelle imprese l'avvicinamento ai GAL, perché gruppo di azione locale significa nel momento in cui continuiamo a parlare sempre di fare rete, di fare rete di impresa, è importantissimo che vengono utilizzate misure come quelle di cui stiamo parlando proprio oggi. Quindi sono fondi, fondi europei che tramite la regione possono arrivare direttamente alle imprese in percentuale, abbiamo detto anche del 40% al fondo perduto, quindi far crescere il nostro territorio, dare vita a un indotto che sicuramente ha bisogno di crescere. La nuova direttrice del Gala Adige, la polesana Claudia Rizzi, ha illustrato invece le strategie e le iniziative che saranno sviluppate per raccogliere le idee a favore della concreta valorizzazione del territorio, in un'ottica di collaborazione fra enti pubblici e privati. Con un fiume di idee vogliamo raccogliere appunto i fabbisogni dell'intero territorio che rappresentiamo. Questo PSL è un'opportunità non solo per gli agricoltori ma per l'intero territorio, perché oltre ad esserci dei beneficiari diretti, alcuni interventi poi portano a migliorare l'intero indotto. Costruire un prodotto che duri nel tempo e soprattutto che porti a una crescita del territorio. Sono stati organizzati una serie di incontri che partiranno l'8 ottobre e si concluderanno il 3 di novembre. I dettagli degli incontri e i moduli da compilare di un fiume di idee si possono trovare nel sito del GAL Polesine Adige www.galadige.it www.galadige.it